Davide Boneddu del Sindacato Nazionale Geologi. Durante l'estate sono stati sanzionati numerosi turisti che asportavano sabbia, conchiglie e quant'altro dalle spiagge. Come geologi voi avete contezza dello stato di salute delle spiagge sarde? La Sardegna è la regione con il più elevato numero di chilometri di costa, circa 1900. Quindi abbiamo un bene ambientale di pregio che entra in un modo molto importante nel nostro ciclo produttivo turistico. Quello che noi come geologi sosteniamo è che in qualche modo queste importanti risorse, in particolare le spiagge, debbano essere debitamente conosciute in quelle che sono le eventuali problematiche che in qualche modo l'uso antropico non corretto può in qualche modo innescare e quindi ad esempio una presenza eccessiva nelle nostre spiagge sarde. Si è parlato tanto di comportamenti incivili da censurare sia da un punto di vista amministrativo che penale. Però facendo una mera riflessione soltanto ed esclusivamente sulla quantità di sabbia sottrata, forse si è parlato poco di quella sabbia che noi sottraiamo involontariamente quando andiamo a passare una giornata al mare. Noi abbiamo fatto una piccola valutazione che portiamo via forse circa 5 grammi di sabbia andando via. 100.000 sono le presenze giornaliere nelle spiagge sarde, ad esempio in una giornata di agosto. Bene, in una giornata si perdono i 500 kg che in qualche modo sono stati recuperati da quell'uso, da quella azione incivile fatta da chi vuol prendere la sabbia come souvenir. Questi 500 kg riportati al mese di agosto diventano 15.000 kg, che non è ancora la somma complessiva della sabbia che si perde durante un'intera stagione estiva. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che va promosso un approfondito studio dello stato di salute delle nostre spiagge, perché se necessario vanno in qualche modo predisposti dei progetti di mitigazione delle problematiche e poi in qualche modo va sensibilizzata la popolazione che ne influisce di questo bene per per esempio usare le stuoie anziché gli asciugamani o meglio le amministrazioni per dotare queste spiagge delle cosiddette doccette e più in generale se sono necessari appunto dei progetti che in qualche modo mirino anche a un carico antropico minore anche promuovere il cosiddetto numero chiuso.